ben ritrovati cari amici buona domenica a tutti parliamo quest'oggi della seconda fotografia che ha preso parte all'assignament winter visions 2022 per landscape photography magazine dopo la coppieta vincente infatti di eguil noir e montebianco visti da antrev ci spostiamo ora in svizzera sul ghiacciaio del berlin express mi allegro subito delle immagini ecco qua qui ci troviamo nei pressi di alpgrum una fotografia scattata dal mitico treno rosso del berlin express che collega le località di tirano con sac moritz chi decide di effettuare questo percorso con un'opportuna sosta da questa posizione potrà godere di una panoramica vista mozzafiato sul ghiacciaio e infatti da questo punto poi si appena il lago nero e il lago bianco per realizzare questa immagine ho utilizzato una nikon di 3.000 con una lente 18 55 mm che appunto potete vedere la distruzione più con la tecnica fotografica e del paesaggio che è stata utilizzata per partecipare a questa proiezione multimediale indubbiamente sono state forti emozioni un paesaggio sublime caldore invernale bufere anche spettacolari ci hanno colto durante questo tragitto però nello stesso tempo la consapevolezza dei drammatici cambiamenti climatici che hanno portato al grave problema dello scioglimento dei ghiacciai è un tema di attualità recente siamo soliti spiegare ormai nelle scuole superiori da insegnanti di scienza nelle ore di educazione civica se noi torniamo alla condivisione dello schermo e andiamo a vedere questi cambiamenti attuali questo è un articolo dove parla appunto del ghiacciaio del morteraccio del gruppo del pernina più famoso ridotto in questi ultimi anni del 50 per cento e oramai si è noto che il percorso è sempre più libero di ghiaccio e addirittura viene ricoperto di vegetazione possiamo anche discutere fare una breve presentazione di come è strutturato un ghiacciaio adesso faccio vedere una scheda cerchiamo un ghiacciaio presenta una zona che si chiama bacino collettore dove si accumula la neve e poi per compattazione appunto si dovrebbe formare il ghiacciaio il bacino abratore sottostante è dove abbiamo una perdita di ghiaccio principalmente per fusione si possono poi incontrare ulteriori termini cioè il fronte dove termina il ghiacciaio il fronte graciale e poi la lingua graciale appunto una forma della lingua che rappresenta una zona che si estende nella direzione del flusso di ghiaccio i prossimi appuntamenti fotografici riguardano sempre la svizzera tra le altre cose quindi ho in mente tempo permettendo se non ci sono imprevisti di altro genere di prendere parte lunedì 28 finalmente di poter realizzare il portfoglio invernale assimplondorf e assimplonstra pass è un portfoglio che è fermo da due anni a causa dell'emergenza coronavirus ma che ora vista le condizioni meteo buone si presume si dovrà riuscire finalmente a fare quindi vorrei poi rendervi partecipi a una proiezione di queste immagini tra l'altro il portfoglio sul berlin express lo potete il mio portfoglio invernale lo potete vedere qua sul mio sito web se vi alleggo anche il link in chat c'è anche poi cercando dagli anni precedenti c'è anche il portfoglio inerente alla versione estiva io consiglio però di qui c'è il link poi potete poi vederlo comunque www.stefania grasso.it e dovete cercare nel portfoglio nella sezione portfoglio anno 2012 e troverete questo servizio speriamo dunque di miglioramento anche delle condizioni climatiche anche se questo ormai difficile da prevedere potete vedere il mio portfoglio in questa sezione e poi speriamo di riuscire a sentirci a ritrovarci presto ancora una buona domenica a tutti voi